Buongiorno a tutti, Sergio Di Clemente della Golmar Italia, siamo qui in occasione dell'Expo Dental 2012 e anche festeggiamo il nostro quarantesimo anno di attività della nostra azienda e per l'occasione presentiamo un prodotto innovativo sul mercato dei disinfettanti per superfici. Il prodotto che andiamo a presentare è la Gin Austerixitina, è un prodotto a base alcolica per disinfettare tutte le superfici e attrezzature mediche. È un prodotto che si presenta sia sotto forma di soluzione e sotto forma di fazzolettino con una particolare confezione sotto forma di flow pack. È un prodotto che ci tengo a precisare che ha una composizione molto particolare con quattro principi attivi, clorexidina, benzalconio cloruro, ha due alcol, l'isopropilico e l'etilico. Questo praticamente permette al nostro prodotto di avere un'efficacia e uno spettro d'azione molto ampio. Infatti in un minuto di attività è attivo contro i gram positivi e negativi e contro tutti i principali virus compreso HIV, HBV e HCV, cioè le epatiti. E in cinque minuti è attivo contro i micobatteri, la TBC e i funghi stessi. Un'altra cosa che ci tengo molto a precisare è che è un prodotto che usato non viene inattivato da sostanze organiche che potrebbero essere presenti sullo strumento o sulla superficie stessa. Grazie.